Salve a tutti, sono Giorgia Bisanti, sono una fotografa e artista visuale. Mi sono formata all'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove ho studiato scenografia e fotografia come linguaggio d'arte. Sin da piccola ho avuto l'opportunità di viaggiare molto e in queste occasioni è nato per me l'interesse verso la fotografia. Grazie alla fotografia infatti riuscivo a creare dei ricordi di quelli che erano i luoghi che visitavo e le persone che incontravo. Successivamente ho capito che la fotografia era per me il linguaggio attraverso il quale preferivo esprimermi, con cui volevo comunicare con gli altri, il mio modo di interagire con il mondo, ma anche un modo per conoscere me stessa. Sempre di più infatti la fotografia sta diventando per me come una pratica attraverso la quale accresco la consapevolezza di me. Il progetto che voglio presentarvi si chiama Meno Umani. È un progetto al quale ho iniziato a lavorare durante il periodo di pandemia, specificamente dopo la fine del primo lockdown, perché mi interessava capire e analizzare quali fossero stati gli effetti a lungo termine che la pandemia aveva avuto sulle nostre vite, e quindi quelli soprattutto legati alla sfera psicologica e sociale. Non è un caso se il focus principale di questo lavoro è ricaduto sulla trasformazione, il cambiamento che è avvenuto nelle relazioni umane in questo periodo. Nella cultura italiana, soprattutto quella più diffusa al sud, I legami affettivi e familiari sono fondamentali per il nostro benessere fisico e mentale, rivestono un ruolo importante per la società stessa. Il territorio in cui vivo, i luoghi che visito, le persone che incontro, influenzano il mio modo di percepire la realtà. Di conseguenza sono presenti sempre in maniera diretta o indiretta nei miei lavori, in quanto la mia pratica artistica consiste sempre in una rielaborazione di quelle che sono le mie esperienze personali. A chi guarda vorrei invitare a dedicare una giusta attenzione, nella propria quotidianità, all'uso e il consumo delle immagini. In una società come quella di oggi, dove prediligiamo sempre più una comunicazione visiva piuttosto che verbale, credo che un focus importante debba essere posto sullo studio di quello che è il linguaggio fotografico e anche cinematografico, soprattutto da parte anche dei sistemi educativi.